L'Italia è una repubblica fondata sull'intraprendenza delle persone, che hanno creatività, idee e voglia di realizzarle. E sul coraggio di chi cerca soluzioni nonostante tutto. Oggi c'è una bella notizia. E' attivo il fondo di micropredito per le imprese. Finanziato dai soldi degli stipendi, i parlamentari del Movimento 5 Stelle si sono tagliati. Un piccolo, grande respiro di onestà che permetterà a voi che avete voglia di fare nascere nuove microimprese, di attingere a risorse per partire e per superare gli ostacoli. Da adesso, infatti, potete fare richiesta di un finanziamento fino a 35.000 euro per una microimpresa. Migliaia di microimprese create. Ed un numero incalcolabile di nuovi posti di lavoro. Questo è l'effetto di stipendi dimezzati e di scontrini accumulati. Questa è l'onestà in azione. E' semplice. Basta contattare lo sportello dei consulenti del lavoro più vicino a te per sapere come ottenere un credito erogato di 10 anni a tassi bassissimi e senza garanzie reali. Trovi tutte le informazioni su www.microcredito5stelle.it Grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle, finalmente è un aiuto per migliaia di nuove imprese. I soldi ci sono, le buone notizie ci sono, l'onestà c'è. Ma volò, ma volò, ma volò.